La sveglia alla politica locale sul futuro della montagna aquilana la suonano oltre 5.000 aquilani che hanno sottoscritto le petizioni lanciate dalle associazioni Save Grand Sass e Progetto Montagna con le quali si chiede di intervenire sia nella revisione dei confini esterni del Parco Gran Sasso rigadenti in ZAPS e l'altra per rivedere i dettami della direttiva Natura 2000 che insiste dentro all'area parco. In tutto 10.000 firme per chiedere insomma che i vincoli di lacciuoli europei vengano messi da parte per procedere ad una pianificazione dello sviluppo montano ormai attesa da anni e che sicuramente dovrà essere argomento di campagna elettorale in vista delle prossime elezioni amministrative. Intanto raggiunte dal Consiglio attuale i promotori della petizione chiedono qual è la loro idea di progettualità per lo sviluppo montano ed evitare il definitivo spopolamento del Gran Sasso. Noi chiediamo un Consiglio comunale proprio sulla questione visto che ci sono 10.600 firme al momento. Qui c'è intanto delle direttive europee che sono state messe senza interpellare la popolazione. Tanto è vero che c'è una famosa nota della regione Abruzzo che comunica i SIC al Ministero dell'Ambiente confessando che non sono nemmeno stati deliberati dalla Giunta e nemmeno pubblicati sul Bura. Quindi è una cosa vergognosa. E qui ci sono 10.600 firme che chiedono invece la discussione e la condivisione di questi vincoli perché non se ne può più. Solo qualche tempo fa però il Vice Presidente della Giunta regionale Lolli aveva tentato di rassicurare tutti spiegando che sì gli impianti di risalita si sarebbero realizzati e che le norme europee non costituiscono un ostacolo al rilancio del compensatorio sciistico in montano del Gran Sasso. Il Vice Presidente è convinto che con il piano del parco si risolve tutto però purtroppo ancora ancora non si capisce una cosa. Il piano del parco è una cosa. Le direttive europee sono un'altra. Sono vincoli che non hanno nulla a che fare con il parco. Il parco è il gestore di questi siti comunitari. Il piano del parco fa sì che solo che vengono interrotte le misure di salvaguardia della 394 che è la legge guardo sui parchi. Le direttive sono un'altra cosa che vanno ad incidere in un'altra maniera. Bisognerà attendere con ogni probabilità le festività natalizie per l'apertura della stagione sciistica a Campo Imperatore. È tornata nei giorni scorsi in funzione infatti la funivia a Fonte Cerreto ma in assenza di neve. È quasi impossibile che gli impianti possano aprire come da tradizione l'8 dicembre. Tutto rimandato dunque è sempre che nevicherà a Natale quando riaprirà anche l'albergo di Campo Imperatore che sarà gestito direttamente dal centro turistico del Gran Sasso. Abbiamo già qualche prenotazione. Contiamo di aprire a bar e al ristorante. Stiamo in attesa della neve. Tutto è nelle mani del meteo, ha affermato l'amministratore unico del centro turistico del Gran Sasso, Fulvio Giuliani. Intanto le prevendite degli abbonamenti stagionali si sono chiuse con una leggera flessione rispetto dalla passata stagione. Abbiamo mantenuto le stesse tariffe del 2015-2016 ha dichiarato Giuliani ma c'è stato un lieve calo registrato anche nelle altre stazioni che fanno parte del circuito dello ski pass unico dei parchi.